Siamo all'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Stamattina qui c'è una conferenza stamattina, state vedendo le immagini, con la presenza del Presidente della Commissione Sanità, Dott. Schiani, del Consigliere regionale Paolino, del Sindaco di Scafati, del Direttore Generale e di tante altre autorità che sono mescolate nel pubblico che sta ascoltando. Perché siamo qua? Perché stamattina si è annunciato che il piano sanitario consentirà al Mauro Scarlato di riavere, di riappropriarsi del pronto soccorso. Chiaramente è normale che poi si voglia sapere ma al pronto soccorso devono essere collegati i reparti e allora anche su questo il Direttore Generale, il Presidente della Commissione Consigliare regionale hanno detto che ci saranno i reparti che tutto è a posto. Arriviamo alla riapertura dell'ospedale, del pronto soccorso dell'ospedale di Scafati a seguito di un lavoro svolto dalla Giunta regionale, dal Presidente Caldò, dalla Commissione Sanità, perché dopo un lavoro profigo e importante dove abbiamo risanato i conti, poi alla fine la riprogrammazione della sanità, quindi superando il decreto quarantano, oggi apriamo, diamo delle risposte importanti, certe e ci arriviamo solo oggi non per spot elettorale ma perché abbiamo finito un lavoro di cinque anni che ci ha portato e ci ha visti impegnati a risolvere una problematica economica e finanziaria che oggi ci consente di essere forti anche in sanità. I tempi sono nell'ottica di quello che dovrà essere il parere dell'Agenas, però noi già l'abbiamo concordato attraverso i Ministri, quindi con l'Agenas e sicuramente saranno tempi brevi. Quindi il Ministro ha dato già parere favorito? Sì, nel confronto con il Presidente Caldò c'è stato un parere positivo del Ministro ma ci siamo confrontati anche con l'Agenas e l'Agenas dà di fatti parere positivo. Bisogna essere felici di un evento importante per una comunità che l'ha chiesto ad alta voce, spesso con momenti di tensione e di difficoltà. Credo che fosse l'ora che tutti insieme cerchiamo di battagliare anche perché la battaglia non è finita. Noi abbiamo insieme alla Regione presentato questo piano al Ministero dell'Economia e della Salute che dovrà approvarlo, quindi questo è un momento importante. Se iniziamo a fare delle polemiche opportunistiche credo che questo non farà il bene di questo territorio perché la partita comunque è ancora tutta da giocare. Abbiamo vinto il primo tempo, siamo in vantaggio nel primo tempo, adesso dobbiamo arrivare alla vittoria finale appunto nel secondo tempo e quindi credo che tutte le forze politiche devono lavorare in questo senso. Se ci attacchiamo fra noi può darsi pure che qualcuno da Roma dice che questi non sono maturi e degni appunto di avere questa nuova opportunità. In ogni caso ci tengo a precisare che se questi risultati, se questo piano può essere presentato in questi termini, ciò è dovuto al risanamento che è stato condotto cinque anni fa, fu fatto un decreto 49, il decreto 49 del 2000 fu fatto perché l'azienda sanitaria locale Salerno, ma la sanità in campagna era in totale default. Se oggi ci si può permettere il lusso di presentare appunto un nuovo piano che prevede la riapertura di strutture che erano chiuse come Scafati oppure di altri ospedali come Roccadaspide e Olidio Citra che erano destinate alla chiusura, lo possiamo fare perché i conti sono in ordine. Senza i conti in ordine non si può avere una buona sanità.